Carissimi, non ho parole per esprimervi la gratitudine del cuore, per esprimervi la gioia per questo dono. Questo dono per chi è stato, per chi ci ascolta, ci segue, che è stato qui a Diarai, a Diarai Village, questo dono loro si rendono conto di quanto era indispensabile per il nostro centro. Il lavoro che facciamo qui tante volte non ha potuto salvare la vita che stavamo prendendo in mano, che stavamo cercando di salvare perché non c'era la possibilità di uscire da Diarai Village. La nostra ambulanza, il vostro dono, diventa per noi essenziale per poter dare continuità e efficacia al servizio e al lavoro della nostra equipe che oggi sta facendo il bilancio del mese di febbraio per presentarlo al distretto sanitario e al Ministero della Salute. La vostra ambulanza permette che il loro lavoro non sia vano perché molte volte, non dimenticate che noi siamo in un centro sanitario di primissimo contatto con la popolazione a oltre 120 km dall'asfalto, noi siamo a 150 km dal primo ospedale degno di questo nome che può quindi prendere in mano e accompagnare in maniera adatta le malattie che qui noi non possiamo gestire. Quindi il loro lavoro senza la vostra ambulanza sarebbe menomato. Questa campagna è iniziata in maniera molto significativa la giornata mondiale missionaria di ottobre 2021. Ecco, questa ambulanza è davvero un segno della nostra comunione missionaria, cioè del nostro desiderio, questa è la missione, di far sentire tutti amati e importanti perché Dio li ama, Dio li ha creati perché li vuole felici gli uomini e le donne di questo mondo. Ma spesso per i più poveri la felicità, la salute, il minimo benessere e i diritti più elementari sono una chimera, sono un sogno irrealizzabile. Grazie a questa ambulanza queste persone potranno sapere che altre le hanno considerate davvero importanti. Come vedete questa ambulanza porta la scritta Caritas e vorrei davvero ringraziare in modo speciale gli amici della Caritas di Senigallia con Don Giancarlo Giuliani come loro responsabile e tutta l'equipe, Giovanni Bonprezzi e tutti, tutti, tutti i responsabili a vari livelli, i volontari delle parrocchie della Caritas di Acesano di Senigallia. Davvero grazie, grazie ai vostri parrocchi, grazie a tutta la mobilitazione che siete stati capaci di mettere in piedi perché in meno di due anni, in un paese in ginocchio a causa della pandemia del Covid, siete riusciti a pensare oltre Senigallia, oltre la nostra diocesi, al di là delle frontiere del nostro paese. Che messaggio? Questo è il simbolo di Missio, della fondazione Missio della CEI. Non posso non citare il gruppo missionario, il centro del cesano missionario e tutti i gruppi missionari della diocesi, il gruppo di Chiaravalle, il laboratorio missionario di Monte San Vito. Davvero, come lo dicevo prima, questa ambulanza è un'ambulanza missionaria. Questo è il rosone dell'abbazia Cistercenza di Chiaravalle del XII secolo e questa abbazia è stata costruita quando ancora viveva San Francesco d'Assisi. Ecco, cosa ci insegnano i monaci? I monaci ci insegnano che Dio è carità, che è una carità che va contemplata, una carità che va vissuta. Ecco, questa ambulanza ci permette di realizzare questo messaggio anche qui a Diarrà. La carità di Dio va resa visibile, concreta, come hanno fatto i monaci, come cercano di fare i missionari, come avete fatto voi, carissimi amici di Senigallia, di Chiaravalle e dintorni. Permettetemi in questo video di dire alcuni grazie molto particolari, molto puntuali. Il primo vorrei dirlo a Carla Paccoia, che è stata un po' l'anima di questo progetto, con lei che l'ha inizialmente proposto a me, a Don Giancarlo, alla Diocesi, a Don Franco, il nostro vescovo, che salute che ringrazio, a Don Giuseppe. Igino e Pietro Pettinari non parlano francese, parlano solo italiano, ma sono stati in grado di lavorare insieme e di mettersi a disposizione gli uni degli altri, per cui in tre giorni Igino e Pietro hanno smontato tutto quello che faceva parte della vecchia ambulanza e con l'aiuto degli altri tre sono riusciti a rimontare il tutto dentro il fuoristrada. Non solo hanno fatto delle varianti, hanno aggiunto dei pezzi, adesso il fuoristrada è un'ambulanza a tutti gli effetti. È una gioia immensa e è bello anche questo, che è una gioia per tutti, perché tutti ci sentiamo un po' parte di questo sogno d'amore. E avete visto che questa ambulanza è davvero un gesto che fa carne, che rende visibile quell'amore che celebriamo nella nostra chiesa. Quindi un grazie a voi particolarissimo, un grazie a tutti gli ammalati. Quante persone affette da cancro, che conosco personalmente, ogni mese, ogni tre mesi, durante il 2021, durante il 2022, hanno partecipato a questa ambulanza, a questo dono. Grazie a tutti voi malati che ci avete testimoniato che anche la malattia può diventare vita per altri. Quindi grazie a tutti voi, grazie a tutte le persone di ogni parrocchia, di ogni movimento, di ogni gruppo, della Diocesi di Senigallia, ma anche della Diocesi di Chiesi, che ha collaborato, che ha partecipato. Insomma, e tutti coloro che in un modo o nell'altro, credenti, non credenti, avete pensato, avete desiderato partecipare a questo progetto. Grazie per aiutarci a credere nell'umanità, questa umanità che è la carne di Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.